A un anno e due mesi di età Edwin Scronstein si chiama Rory Godfrey e è nata con una rarissima patologia che le ha reso la lingua più lunga del normale. Ha detto mamma per la prima volta grazie di un'operazione. Soffre della sindrome di Beckwith-Ridermann e ha rischiato più volte di soffocare nel sonno con la sua stessa lingua a lingua. Ha avuto difficoltà a mangiare e anche a parlare. La malattia tottisce un mondo nel quindicimila dopo il pianeta e può comportare la crescita sproporzionata di tessuti diversi nel corpo ma non per forza la lingua come è il caso della piccola Rory. Però dopo un'idea chiesa la piccola è stata operata a una lingua normale finalmente dopo l'intervento il primo grande cambiamento è stato proprio nella parola. Pochi giorni dopo Rory ha detto infatti la parola a mamma. Bene, complimenti a tutti, una storia dunque alla routine, iscrivetevi, commentate, me ne ho parlato per farvi sorridetto, per farvi vedere che non è come dire tutto brutto quello che c'è nel nostro pentolo.